Aveva preso in affitto un appartamento trasformato in base logistica per lo stoccaggio della droga, avviando una lucrosa attività di smercio di marijuana e cocaina. Ma a mettere fine al commercio sono stati i carabinieri che a coronamento di un'indagine hanno fatto scattare un blitz nel corso del quale sono stati scoperti gli stupefacenti che un 24enne aveva nascosto all'interno dell'abitazione. Con l'accusa di detenzione di droga e fini di spaccio, i militari dell'arma hanno arrestato un catanese che aveva preso in affitto la casa, posta al piano terra di uno stabile di Via della Concordia, nel quartiere di San Cristoforo. Il 24enne era stato messo sotto osservazione dei carabinieri nell'ambito dell'attività contro lo smercio di droga. Un servizio ad hoc è stato predisposto con discrezione nei pressi della casa. Nel momento in cui il giovane stava per ritornare all'interno dell'abitazione, i militari hanno fatto scattare il piano, bloccandolo ed entrando all'interno insieme a lui. La perquisizione ha fatto emergere in un armadio posizionato nel cortile diversi involucri di plastica di colore giallo trasparente contenenti 100 grammi di marijuana del tipo amnesia. In un pensile i carabinieri hanno rinvenuto alcune bustine di colore blu trasparente che contenevano 125 grammi di cocaina. 2.800 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di pusher, sono stati ritrovati all'interno di una credenza, insieme a un blocco notice, su cui erano annotati nomi e importi relativi all'attività di spaccio all'ingrosso. Sotto sequestro, droga, denaro e altro materiale utile alle indagini, al 24enne sono stati concessi gli arresti domiciliari. Grazie. Grazie.